E' precipitato nel vuoto Gianni Ambrosini, un operaio di 44 anni di Monte Felcino che questa mattina è caduto dal cestello di una gru gommata situata in un cantiere edile nel centro storico di Fano. Il volo, di oltre 20 metri, non ha lasciato scampo al 44enne. Ambrosini è morto sul colpo. La tragedia si è verificata poco prima delle 8 a due passi dalla Basilica di San Paterniano e a dare l'allarme è stato un collega che stava lavorando insieme a lui allo smontaggio della gru dopo i lavori di ristrutturazione di un fabbricato con tre unità residenziali tra via Bovio e via Polloni. Il corpo della vittima è stato ritrovato nella piattaforma ai piedi della gru che ora è stata posta sotto sequestro e con ancora addosso l'imbragatura, ma l'esatta dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Infatti si sta cercando di capire se fosse allacciata correttamente e se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Per ora non è esclusa nessuna ipotesi, come un cedimento della struttura per la quale è in corso una verifica di stabilità della parapia oppure un malore. Per ulteriori accertamenti la dottoressa Garuglia ha disposto l'autopsia e in attesa dell'arrivo del magistrato tutta l'area è stata interdetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l'ispettorato del lavoro e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Ambrosini lascia la moglie e due figlie di 16 e 18 anni.